Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV, in primo piano due notizie flash di Cronaca e poi un'intervista esclusiva al candidato sindaco di Forio, Davide Cassaiolo. Partiamo dalla Cronaca, i carabinieri del nucleo operativo di Ischia hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli a carico di Raffaele Napolitano, 43enne ischitano, già sottoposto agli arresti domiciliari. Napolitano è stato riconosciuto colpevole con sentenza definitiva del reato di maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti della compagna di origini polacche classe 75. Il 43enne durante una lite nel gennaio del 2019 spinse la donna a terra cagionandole la morte. Dovrà scontare 12 anni di reclusione, si trova ora nel carcere di Poggio Reale. Sempre oggi è scomparso il geometra Giovanni Migliaccio all'età di 67 anni per oltre un decennio amministratore comunale di Barano, poi tra i banchi dell'opposizione per un periodo progettò e avviò la rinascita della sorgente di Nitrodi, il rito funebre sarà celebrato domani pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale Santa Maria Madre della chiesa a Fiaiano. E sempre nella giornata di oggi un altro lutto ha colpito la comunità ischitana, a 49 anni ha perso la vita Giovanni Giuseppe Arcamone, tassista, persona stimata e ben voluta da tanti cittadini che ne piangono la scomparsa insieme ai familiari. Il rito funebre si celebrerà la chiesa dello Spirito Santo domani venerdì 17 febbraio alle ore 15.30. Apriamo la pagina dedicata alla politica come vi anticipavo, poco più di un mese fa è stata annunciata la candidatura di Davide Castaiuolo scelto per essere il successore di Francesco del Deo a Forio. Sulle voci che vedevano la compagine della maggioranza uscente divisa sul suo nome Castaiuola Nuvola TV smentisce la mia candidatura è stata condivisa da tutti e la nostra sarà un'amministrazione collegiale in cui tutti avranno spazio. Sugli avversari e sulla sfida elettorale l'attuale consigliere comunale non teme il confronto, non si è ancora capito chi sarà il loro candidato ma ho pochi dubbi su quello che sarà il risultato elettorale ha raccontato Castaiuolo. Ascoltiamo allora uno stralcio della sua lunga intervista la cui versione integrale è già disponibile sui nostri canali web e sarà trasmessa questa sera alle 21.45. La candidatura è nata da una scelta che è stata fatta all'interno di tutto il gruppo di maggioranza del Consiglio Comunale di Forio ed è stata accettata all'unanimità quindi tutte le cose che si dicono, che scrivono gli avversari non sono veri, le scelte sono state fatte da tutti, tant'è vero che lunedì prossimo avremo un Consiglio Comunale in cui saremo tutti quanti presenti per discutere di altri argomenti ma ciò dimostra che il gruppo è compatto ed è unito intorno alla mia candidatura, sono state proposte dai consiglieri comunali da Michele Reggine a Loffredo a Gianni Matarese alla Galassia a tutti quanti gli altri, tutti quanti sono stati d'accordo sul mio nominativo. Io sono stato scelto non perché naturalmente ciò do di particolare ma semplicemente perché la mia proposta era quella di creare un nuovo tipo di amministrazione in cui venivano coinvolti un po' tutti, in cui il Sindaco fungisse più che altro da coordinatore di un lavoro di squadra ed è quello che io mi prometto di fare nel prossimo tornato elettorale perché naturalmente mi rendo conto che è difficile amministrare, ma un comune come Forio deve essere amministrato da una squadra e la squadra deve essere formata da decine di persone che vogliono collaborare, si vogliono impegnare per risolvere i tanti problemi che ci stanno a Forio. Quello che è stato fatto finora è stato fatto un grande lavoro ed il Sindaco di Forio, Francesco del Deo, ha fatto veramente un grandissimo sacrificio ed un grandissimo lavoro perché oltre al risanamento economico che abbiamo fatto, a cui mi sono dedicato principalmente io, che ha permesso al comune di Forio che in 10 anni di alzerare una situazione economica di circa meno 28 milioni di debito, meno 28 milioni di debito e oggi la situazione economica del comune di Forio fortunatamente è tranquilla, non abbiamo bisogno di finanziamenti particolari, abbiamo la possibilità di fare mutui, quindi tutta la situazione è sotto stretto controllo, non abbiamo aumentato le tasse negli ultimi 10 anni e quindi questo capitolo è stato chiuso e la nuova amministrazione che verrà avrà la possibilità di gestire Forio da una logica diversa in cui non dobbiamo fare più sacrifici per far quadrare i bilanci, perché si dobbiamo semplicemente programmare, richiedere mutui e non aumentare possibilmente le tasse dei cittadini per i prossimi anni. Naturalmente in fase di discussione vi spiegherò anche qual è il mio programma, che cosa vogliamo fare, ma voglio anche sottolineare, prima di chiudere questo breve intervento, anche un'altra cosa. Noi ci siamo dedicati in questa amministrazione a sistemare i lavori pubblici del comune di Forio, voi avete visto che nel comune di Forio attualmente, solo in questo periodo, stanno in itinere 21 milioni di lavori pubblici che vanno dal porto di Forio al waterfront, alla passeggiata di Cidara, alle fogne Forio-Panza, a tutti gli altri lavori, all'entrata di Panza, Forio, via Spadare, tutti questi lavori sono stati fatti perché abbiamo avuto un sindaco che si è impegnato nel richiedere e nell'avere i finanziamenti dagli enti sopracomunali, soprattutto i finanziamenti regionali, europei e delle isole minore. Ci stanno progetti importanti che dovremo portare a termine e la prossima amministrazione, in una logica di collegialità, porterà a termine questi che sono i progetti che porteremo nel programma che faremo nei prossimi mesi, perché penso che fra 3 o 4 mesi dovremo votare. Mi sembra un po' forzato candidare Staneverdo come candidato del nuovo, quando insieme a Staneverdi ci sta Franco Reggi, Antonio Trofa, qui ci sta Franco Mondi, ci sta tutta la vecchia nomenclatura politica che ha amministrato il comune di Forio negli ultimi 20 anni, sta con lui, non sta certamente con noi. Noi abbiamo un'amministrazione che ha iniziato 10 anni fa, forse il più vecchio politicamente in quell'amministrazione ero proprio io, insieme a Francesco Del Deo, quindi eravamo tutti nuovi in rapporto, comunque a me non interessa quello che faranno gli avversari, perché noi siamo convinti che li batteremo senza grossi problemi, scelgano quello che vogliono naturalmente, noi già abbiamo i nostri problemi, non è che possiamo inserirci nei problemi di Staneverdi o Franco Reggi. Però non si andrà a pescare in quella compagine, questo lo possiamo già escludere oppure si può aprire un dialogo anche con qualche componente che questo lo vedrà? In quella compagine non abbiamo fatto trattativa con nessuna di quella compagine, ne faremo trattativa con nessuna di quella compagine. Noi trattiamo quei gruppi esterni che non fanno parte né del nostro gruppo né del gruppo che fa capo al mio competitor, ma quindi non ci interessa questo. però voglio precisare una cosa, noi per quanto riguarda la nostra scelta l'abbiamo fatto mesi fa, gli avversari loro ritengono sempre Staneverdi ma non l'hanno mai ufficializzato, fino adesso noi l'abbiamo ufficializzato almeno in due o tre occasioni, loro non l'hanno mai ufficializzato, non ci sta nessun documento che dice che Staneverdi il nostro avversario, quindi noi per quanto ci riguarda Spettiante. L'attualità, la campagna lanciata dal ministero di Sisischia, la tappa dell'intergruppo parlamentare sulle isole minori la prossima settimana, il festival internazionale di musica Senzorama boutique festival che si terrà a fine aprile, sono solo alcune delle tappe studiate per il rilancio dell'isola, un rilancio a cui sta lavorando anche l'associazione e poi ritorniamo, guidata da un folto pool di giovani, proprio per questo motivo il presidente Davide Laezza è stato invitato al Senato per incontrare alcuni parlamentari ed esporre alcuni progetti di rilancio dell'isola d'Ischia. Vediamo il servizio del nostro inviato a Roma, Luca Antonio Pepe. Davide Laezza, presidente dell'associazione e poi ritorniamo, ti trovi qui oggi al Senato dove hai attenzionato alcune battaglie che portate avanti, nascete da poco, raccontaci della tua realtà associativa. E poi ritorniamo in un'associazione giovanile che si rivolge a tutti i giovani dell'isola, ma anche ai giovani imprenditori e ai giovani attivisti, per fare in modo di rappresentare un messaggio unitario non solo per l'immagine dell'isola, ma anche delle tante iniziative che speriamo e stiamo cercando di portare avanti con tutti gli attori istituzionali. A breve, una delegazione di un intergruppo parlamentare delle isole minori, Faratà Paischia, mi dicevi prima che avete delle battaglie che intenderete sottoporre agli onorevoli. È stato un onore essere presi in considerazione tra gli stakeholders per questa bellissima iniziativa che mette finalmente Ischia al centro dopo questo bruttissimo e triste momento e faremo la nostra parte per rappresentare gli interessi giovanili. Ci sarà un documento programmatico che stiamo strutturando insieme a tutti gli associati su delle battaglie partendo dal turismo fino a passare alla sostenibilità e ai tanti temi attualissimi. Dicci una battaglia che secondo te più di tutte deve essere portata avanti. Crediamo molto nell'Unione dei Comuni su delle tematiche tra cui il tema dell'assessorato per il turismo e poi una battaglia a cui teniamo molto è quella ovviamente dei giovani, dei tanti giovani costretti a scappare via e quindi che devono ritornare per portare il loro contributo di idee. Quindi c'è bisogno di un programma lavorativo, reale, concreto che rispetti i diritti dei giovani lavoratori ma che dà anche la possibilità di realizzare in proprio quelli che sono i sogni e le ambizioni. Partita una campagna del Ministero di Sisischia, come giudichi questa campagna di marketing che si sta portando avanti? Abbiamo avuto la fortuna di partecipare anche a questa campagna in presenza del Ministro Santanchè venuto a lanciare questa iniziativa e credo che sia importante dare un segnale forte di ripresa, di un'immagine coesa, di un'isola che reagisce con coraggio, l'ha fatto già purtroppo, non è la prima volta che lo fa insomma. Ma la cosa importante è che noi abbiamo detto in noi il messaggio chiaro che Ischia è certamente quella bellissima cartolina che sta girando negli aeroporti di tutto il mondo ma anche l'isola delle esigenze, l'isola delle necessità, l'isola in cui c'è bisogno di una risposta chiara delle istituzioni sull'emergenza non solo per gli sfollati ma anche per coloro che ancora si portano gli strascici del danno del terremoto. I sindaci ti stanno guardando in questo momento, fai conto? Qual è il messaggio che rivolgi loro? Ora più che mai è momento di considerare Ischia un patrimonio enorme, prezioso che va però difeso ragionando insieme con un forte senso di comunità e un forte senso di appartenenza. A proposito di turismo si è svolta dal 4 al 6 febbraio la BIT di Milano 2023, una delle principali fiere italiane dedicate al turismo, presente tra gli altri dal Sud Italia Hotel, si è rappresentata dal Presidente Saverio Presutti. C'è tanta voglia di venire ad Ischia, dichiarato ai nostri microfoni, è la prima volta che vedo tanta attenzione da parte del Governo e della Regione verso la nostra isola. Con Presutti si è parlato anche dell'iniziativa di Trenitalia e della campagna di Sisischia in cui sono stati protagonisti, i giovani isolani. L'intervista. Saverio Presutti, anche quest'anno l'Isola Dischia è stata presente alla BIT di Milano, rappresentata dal tour operator Sud Italia Hotel. Come è andata? Siamo rimasti molto contenti, siamo stati accolti da tutti gli operatori, sia stranieri che italiani, in un modo veramente molto affettuoso. Tutti quanti ci vogliono aiutare, aiutare a portare i clienti, a continuare a portare i clienti sull'isola d'Ischia, perché anche per loro è un'isola più bella del mondo, è un'isola dove si sono trovati sempre bene e non vedono, anzi, in questo momento c'è ancora più forza a portare i clienti su Ischia. Durante la BIT è stata presentata anche la campagna Ischia Corre ad Alta Velocità, nata in collaborazione con Trenitalia. Un'altra occasione importante per far conoscere l'isola, è stata presentata agli italiani e anche ai tanti turisti che scelgono di passare le proprie vacanze in Italia e sull'isola. Certo, di questo abbiamo avuto veramente grosse dimostrazioni, a partire dall'Enit, che lo stand dell'Enit all'interno della fiera, completamente con le immagini dell'isola d'Ischia e con Ischia Tesischia. Veramente a me ogni volta che passavo di lì, oppure qualche volta che abbiamo avuto degli incontri presso l'Enit, mi emozionavo a vedere come il supporto sia dell'Enit che del governo assaldando all'isola d'Ischia. Una cosa veramente in tanti anni che faccio il turismo è la prima volta che vedo un supporto a questi livelli. In più la regione Campania, all'interno della stazione, che ha presentato sia un desk di info point all'interno, sia le varie manifestazioni che si sono svolte, sempre Ischia in prima linea, e questo è un altro supporto che ha dato all'isola d'Ischia. Veramente adesso anche Trenitalia, Trenitalia con questa grande promozione del 70% che chi viene dal 14 febbraio fino a fine giugno può avere questo sconto mettendo soltanto un codice all'interno della prenotazione, cosa vogliamo di più? Adesso dipende solo da noi, da noi a dimostrare che chi viene, vede un'isola sicura, un'isola tranquilla, un'isola pronta ad ospitare i propri ospiti. Noi ce la stiamo mettendo tutto, io credo che anche i cittadini sono dalla loro parte pronti ad accogliere tutti i vari turisti con la disponibilità di sempre, con le emozioni di sempre e con la massima disponibilità. Come dicevi, il Lenit ha dedicato il suo stand interamente all'isola d'Ischia e all'interno dello stand sono state mostrate anche dei video realizzati dai ragazzi dell'associazione E poi ritorniamo. Questo dimostra quanto proprio i giovani ischitani ci tengano all'immagine dell'isola. Sì, io voglio ribadire in varie, diciamo anche altre discussioni che ho avuto, oggi i giovani sono la forza dell'isola d'Ischia, i giovani qui e là che hanno voglia di contribuire a far sì che l'isola sia sempre più in alto, sia sempre più, conservi i suoi valori tradizionali e io ci credo tantissimo, anzi ne approfitto per dire ragazzi, datevi sempre il fu forza perché la speranza siete voi, siete voi a far sì che l'isola rimanga e continui ad essere l'isola più bella del mondo. Ogni giorno l'associazione pazienti oncologici di Ischia assiste tanti cittadini ischitani che combattono malattie oncologiche e in molti casi c'è bisogno di aiuti economici per sostenere l'acquisto di farmaci o la prenotazione di esami specifici. Dunque l'associazione si impegna costantemente per avviare raccolte fondi ed eventi che hanno come scopo proprio la raccolta di contributi economici per sostenere i malati oncologici dell'isola di Ischia. Sabato all'hotel Mediterraneo di Forio alle ore 19 in programma la canzolata di Carnevale con Gaetano Maschio e Filomena Piro che si esibiranno in questa occasione proprio per sostenere l'apo. Guardiamo il servizio. Le attività dell'associazione pazienti oncologici di Ischia oggi in che cosa consistono? È un'attività importante la vostra quotidiana soprattutto? Sì è un'attività quotidiana che viene svolta a favore del paziente ammalato oncologico sulla nostra isola in quanto il paziente in determinate difficoltà può contattarci e quindi un'equip di medici, infermieri, psicologi e volontari possono aiutare il paziente in ogni esigenza. Nell'ultimo anno siamo riusciti ad aiutare sia materialmente che economicamente molti pazienti della nostra isola e questo è quello che svolgiamo con la speranza che l'associazione possa crescere sempre più anche mediante varie raccolte che chiediamo spesso alle persone di donare per l'associazione per il bene di molti ammalati che si trovano purtroppo in condizioni economiche precarie anche per poter comprare dei farmaci che purtroppo il sistema sanitario nazionale non passa. In effetti ci sono due scopi. Uno sono le battaglie proprio sociali per i servizi per garantire un miglioramento della sanità. Ricordiamo che spesso dovete andare in terraferma per tante attività che si potrebbero fare qui sull'isola. Al tempo stesso però c'è bisogno anche di supporto economico proprio per le difficoltà che spesso i pazienti hanno nel potersi o non potersi curare. Sì, queste battaglie si cerca più che altro di parlare affinché le persone e i capi che sono anche i sindaci che possono aiutarci, possono mettere per iscritto quali sono le nostre esigenze qui sull'isola, un po' come anche l'isola un po' dissestata per quanto riguarda determinati servizi. Però con questo andiamo con cautela, cerchiamo di poter prestare subito assistenza a quella che è la necessità che vediamo e che viviamo nel quotidiano. Maestro, l'occasione per poter donare la offre lo spettacolo, la musica, lo stare insieme ma in che modo? Io sono qui proprio per questo, per invitare caldamente coloro che ci ascoltano, tutti gli isolani, ad essere con noi per un'opera buona. Sabato 18 all'Hotel Mediterraneo, alle 19 saremo insieme con la canzolata, la tombola cantata. Tante volte la tombola cantata è stata vettore di buone azioni, quindi siamo riusciti a fare tante belle cose. Anche questa volta aiutiamo l'associazione pazienti oncologici, sempre presente nelle case. Ho avuto modo di provare in prima persona quanto siano sempre presenti e amorevoli con le persone che soffrono. E quindi è il momento in cui possiamo divertirci, portare a casa dei premi. Abbiamo segnato sulla locandina una grande scialata. La scialata carnevalesca vuole significare avere la possibilità di giocare, di ascoltare le belle canzoni, con me sarà il soprano Filomena Piro, e di stare insieme all'insegna della solidarietà. Vi aspettiamo. Siamo in un ambiente veramente accogliente, all'Hotel Mediterraneo di Forio, dalle 19 il 18, quindi sabato sera, per poter tornare a casa ed essere certi di aver, dopo esserci divertiti, di aver fatto una buona azione. Vi aspettiamo. Chiudiamo con lo sport. Parliamo di calcio a 5. Nella importante e agevole vittoria della Virtus Libera a Venafro c'è stata anche la firma del capitano Enzo Coppa che ha messo a segno la prima rete nel campionato nazionale di Serie B. Coppa è la bandiera, il capitano della Virtus Libera, protagonista della cavalcata iniziata dal campionato di Serie D. Gli isolani in generale si confermano in un buon momento, ma mister Di Costanzio continua a mantenere i piedi per terra nonostante il filotto consistente di vittorie. Guardiamo il servizio. È andata bene perché abbiamo fatto una partita con grande determinazione, siamo stati molto concentrati anche quando dall'iniziale vantaggio siamo passati sul 2-2 per la squadra avversaria. abbiamo fatto una partita con grande determinazione, è quello che mi aspettavo, avevamo preparato bene la partita e siamo riusciti a vincerla. Sabato arriva fuori io la Barrese che attualmente è il terzo posto in classifica. La Barrese è una squadra che la Virtus Libera conosce bene e che lo scorso anno era considerata la più forte del girone. Che cosa si aspetta dalla partita di sabato? La Barrese non è la squadra dello scorso anno, la Barrese quest'anno è una squadra completamente diversa, per cui è una squadra forte che ci sta giocando la chance di vincere il campionato o quantomeno di essere mosti in Serie A2 rientrando nelle prime tre posizioni. Noi dobbiamo, cosa ci aspettiamo? Mi aspetto di giocare una partita importante, di affrontarla con la massima serenità, nonostante sia una gara molto difficile per noi. Non dobbiamo pensare che questa sia la gara che dobbiamo per forza vincere per continuare a perseguire i nostri obiettivi. Dobbiamo pensare che sia una gara, una gara importante, fondamentale, difficile, ma quindi dobbiamo solo pensare a giocare la bene. Vola la Virtus Libera di Sola Ischia del capitano Enzo Coppa. Capitano, tanti bei risultati, tanti dati positivi da analizzare. C'era anche uno personale, il tuo primo gol in Serie B. Che gusto ha, che sapore ha questo gol? Sì, sono molto contento perché lo aspettavo. Era da parecchi mesi che ho provato. Purtroppo non è arrivato ancora, però sabato finalmente sono riuscito. L'importante però era la vittoria. Il gol, sì, fa piacere, però quando la squadra vince è sempre buono. Senti, una Virtus Libera che vola, veramente un girone di ritorno incredibile. Siete tra le squadre più in forma del campionato e sabato big match perché c'è la Barriese terza forza del campionato. Sì, sabato affrontiamo una squadra molto tosta, una squadra che ha giocatori di categoria, è una squadra molto difficile da affrontare. Noi come sempre lavoriamo bene in settimana e sabato faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Senti, sabato si gioca al Palazzetto Casale che è uno dei punti di forza da sempre, la Virtus Libera. So che non ce n'è bisogno, però insomma i tifosi li vogliamo invitare a essere presenti perché la gara di quelli è importante, non si deve nasconderla. Sì, come hai detto tu, non c'è bisogno perché i tifosi appassionati isolani, non solo foriani, quest'anno ci stanno dando una grossa mano e quindi anche sabato li invito al Palazzetto per darci un'ulteriore spinta per battere la Barriese. Francesco Paolo Castaiolo, detto Ceppone, tifoso numero uno della Virtus Libera, sabato arriva al Palazzetto Casale la Barriese, che cosa ti aspetti da questa partita? Io penso che i ragazzi daranno l'anima per portare a casa i tre punti, è una squadra molto forte, noi ci batteremo con tutte le nostre forze e ovviamente forza Virtus Purio. Prima di salutarci come sempre uno sguardo alle previsioni medio. Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per i prossimi giorni. Possiamo notare come tra venerdì e sabato l'anticiclone interesserà ancora tutta Italia, seppur disturbato da infiltrazioni di aria umida che in quota da ovest interesseranno il versante tirrenico, un po' di nubi basse. Domenica invece un blando fronte perturbato dal nord Europa diretto verso i Balcani lambirà il versante adriatico. Intanto ecco la situazione per la giornata di venerdì sull'Italia, una giornata di cieli sereni o poco umulosi, ma un po' di nubi basse sul lato tirrenico, si tratta solo di umidità che dal mar tirreno investirà i settori occidentali della nostra penisola. Non prevediamo comunque piogge. Cieli sereni o poco umulosi altrove, le nebbie di notte al mattino sulla Val Padana. Ulteriori dettagli approfondimenti scaricando l'app di Trebimeteo. È tutto per stasera con il TG News, come ogni giovedì vi lascio al salotto con Snichelotto, subito dopo alle 21.45 trasmetteremo l'intervista integrale realizzata nei nostri studi con il candidato sindaco di Forio Davide Castagliolo. Grazie per essere stati con noi, il telegiornale di Nuvola TV ritorna domani alle 20.30. Buon proseguimento di sera.